segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te benvenuta ellis line candidata alla segreteria del partito democratico benvenuto alessandro sallusti direttore di libero quotidiano allora ellis line un'altra vittoria della destra è forte questa volta è veramente netta una vittoria molto netta la nostra proposta le nostre proposte non hanno convinto credo che sia per questo che dobbiamo cambiare tutto tutto vuol dire cambiare visione cambiare volti e cambiare anche metodo perché altrimenti sarà impossibile per il pd risalire e contribuire anche a ricostruire un campo che si presenti vincente per le prossime elezioni guardiamola dall'altra parte non è che semplicemente la meloni governa bene le è venuto il dubbio guardi o comunque agli italiani piace abbiamo già visto è chiaro sono passati pochi mesi ma in questi mesi abbiamo visto un governo che come prima cosa nella manovra colpisce i poveri anziché contrastare la povertà colpisce le pensioni del certo medio colpisce le pensioni delle donne colpisce opzione donna lasciando 20.000 esodate non mette risorse sugli enti locali sul sud sulla sanità pubblica che dopo la nostra pandemia dovremmo aver capito che abbiamo bisogno di investire sulla salute delle persone quindi io temo che saranno molte le promesse mancate di questo perché gli italiani non capiscono quello che dice lei secondo lei cioè perché non sono d'accordo perché se fossero d'accordo voterebbero voi ma guardi la destra è divisa eppure riesce a mettersi insieme quando è il momento di fare una proposta elettorale e vince la destra è andata al governo fa la destra e vince le elezioni noi dobbiamo costruire la sinistra che è mancata in questi anni quanto si sente responsabile di questo lei in fondo da quella parte è sempre stata si da quella parte sono sempre stata e se oggi ho deciso di rientrare nel partito democratico è perché penso che senza una rifondazione profonda non si possa costruire l'alternativa queste destre c'è uno smacco in più no almeno per lei questa è una destra che vince guidata da una donna guardi c'è una bella differenza però tra una leadership femminile e una leadership femminista non ci vuol dire lei sarebbe femminista che vuol dire è molto semplice non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batta per migliorare la condizione di vita di tutte le altre donne di questo paese ho fatto l'esempio su opzione donna non aiuti le donne colpendole sulle pensioni o discriminandole a seconda del numero dei figli a 60 anni che magari hanno avuto 40 anni prima e anche volendo non possono più recuperare le aiuti con un congedo paritario pienamente retribuito di tre mesi non trasferibile tra i genitori perché quella è una misura che aiuta davvero l'occupazione delle donne perché la meloni non lo capisce questo secondo lei ma non è che non lo capisce è che purtroppo ha deciso di guidare un partito che ancora una visione delle donne da relegare a welfare vivente perché il welfare per questa destra è un costo per noi invece è un investimento fondamentale alessandro sallustri prego io ho l'augurato di essere lei la prima ma mi spiega perché una donna in un partito così aperto e attento a valorizzare le donne non è mai è sempre stata nominata da uomini non ha mai conquistato lei il partito le auguro di essere la prima ma fino adesso così non è stato perché perché evidentemente fino a qui non è stato così aperto alle donne questo è parte del problema è parte della ragione per cui ho deciso di tentare questa sfida anche solo diciamo se servo qualcosa servo ad aprire un varco per tante troppe donne che sono rimaste schiacciate da logiche di cooptazione ecco io vorrei guidare un partito in cui nessuno si sente padrone né delle tessere né delle persone né tantomeno delle donne salustri ecco se mi permette le donne sono un tema fondamentale non c'è dubbio ma non credo che sia importante anche riflettere sul fatto che alle vostre primarie a mira fiori cioè il tempo il simbolo dell'operaismo italiano alle primarie abbiano votato in 26 non credo che quello sia un problema prioritario rispetto al genere all'identità di genere a diciamo non non credo che ci sia da fissare una gerarchia di priorità credo che se c'è un terreno su cui il partito democratico ha perso credibilità è proprio quello del lavoro perché sono state fatte delle scelte sbagliate mi riferisco a quando nel 2015 si è scelto di liberalizzare i contratti a termine ai tempi del job set che oggi paghiamo ancora perché hanno prodotto fratture con i mondi di riferimento come il mondo del lavoro le operai e gli operai ci sono dei segnali però di controtendenza ho saputo che ci sono 30 operai di castellamare di stabia che si sono iscritti al pd per sostenermi in questa sfida e tant'è che abbiamo vinto il congresso in quella città quindi con un po di pazienza bisogna ricostruire credibilità per farlo bisogna essere netti nel riconoscere gli errori e dire che oggi siamo quelli che vogliono mettere un limite e contratti a termine altrimenti non saremo credibili con quei giovani che conoscono per il 62 per cento soltanto contratti precari a convincio un'inversione di tendenza su questo campo sallusti potrebbe essere una via per il pd no ma che debba invertire la tendenza non è che lo dico io lo dicono loro lo dicono gli italiani ma non si capisce non si capisce riposta gli italiani non hanno capito nemmeno rispetto al suo programma alla fine dove vuole andare perché voglio dire banalizzando per provare a vincere un'elezione lei deve andare o con calenda e il mondo di calenda o con conte il mondo di conte perché altrimenti va bene fa una bella testimonianza ma resta lì e io non ho capito da che cosa vuole andare le faccio gli unisco un'altra domanda a proposito di una narrazione così un po lei prima ha citato come tra i difetti della destra il fatto di voler incentivare o non voler considerare più di tanto la sanità pubblica ma lei sa che l'emilia romagna regione che lei amministra è la regione che dà il maggior trasferimento di fondi alla sanità privata cioè la sanità privata in emilia va bene in lombardia o in lazio no guardi allora una precisazione io non sono più vicepresidente della regione emilia romagna ma il modello è completamente diverso mi perdoni cioè noi siamo quelli che vogliono contrastare ogni forma di taglio e privatizzazione anche strisciante della sanità pubblica abbiamo un sistema pubblico molto solido abbiamo fatto ma veramente migliaia di assunzioni peraltro durante la pandemia per renderlo ancora più solido e capillare sui territori allora le faccio vedere cartello 42 lei sul giornale è stato molto netto infatti l'abbiamo invitata a confrontarsi direttamente direttamente con ellis klein lei dice la ragazza ci darà soddisfazione il suo curriculum si adatta perfettamente al caos identitario che regna dentro quel partito antiatlantista amica dei palestinesi av ucraini e contrario al sostegno militare a kiev conferma diciamo l'identikit di ellis klein io lo confermo chiedo lei se ho sbagliato qualcosa mi sembra tutto piuttosto infondato direttore con rispetto peraltro io insieme al nostro gruppo abbiamo sostenuto invece la necessità di assistere il popolo ucraina la resistenza ucraina che si sta difendendo da un'aggressione criminale che viola il diritto internazionale in ogni suo punto è chiaro che abbiamo anche chiesto un maggiore sforzo al governo e soprattutto all'unione europea che la vera voce che manca per svolgere un protagonismo che possa creare le condizioni per far finire questa guerra per portare la comunità internazionale anche verso una conferenza multilaterale di pace perché io mi ci sta dicendo che se lei diventerà segretaria la linea del pd rispetto all'appartenenza alla nato al blocco atlantico occidentale non cambierà questa è una bella notizia per l'italiano guardi che io non ho mai sostenuto il contrario io sostengo che un conto sia il sostegno militare ma guardi questa è una differenza che tengo molto io non ho mai ritenuto sbagliato sostenere la resistenza ucraina anche di fronte alla sproporzione di forze certo che penso che non è diciamo con le armi che si risolverà questa guerra ma bisogna anche adoperarsi ogni giorno per la pace e se la sinistra guardi ma ci sono degli stati che stanno sostenendo putin in questa sua follia e quindi ogni pressione politica e diplomatica che possiamo agire per fare diciamo portare le condizioni di un cessate il fuoco e di una pace giusta le è piaciuta la proposta di silvio berlusconi le è piaciuta la proposta di dare soldi a zeleschi in cambio della cessione del donbass a putin sostanzialmente ma io credo che berlusconi abbia messo molto in difficoltà peraltro la maggioranza che stava tenendo invece una linea sul sostegno all'ucraina e quindi le trovo delle dichiarazioni gravi perché confermano una vicinanza nota di berlusconi con putin e io invece ho un giudizio molto netto su quello che sta facendo putin e credo che chiunque sta nelle istituzioni non potrebbe che avere una posizione molto netta sul fatto che questa è un'invasione criminale se lei dovesse descrivere a un collega straniero la destra che governa in italia come la descriverebbe molto ideologica identitaria nazionalista guardate sono arrivati hanno fatto delle bandierine ideologiche una contro i raduni pericolosi grande emergenza del paese e l'altra addirittura bloccando le persone nei porti quando si sono resi conto che questo è illegale hanno deciso di allungare le sofferenze di chi viene salvato dal mare facendo sbarcare più di 80 minori alla spezia per poi a spese dello stato caricarli sui bus e farli tornare indietro di 800 chilometri fino a foggia ma che senso ha la logistica dell'orrore no no voglio dire tutto assolutamente giudizio assolutamente legittimi ma lei non riuscite a prendere atto che la vostra narrazione come dire non corrisponde alla realtà cioè la destra non ha mai voluto bloccare l'immigrazione vuole bloccare l'immigrazione clandestina questo sì la destra non è fascista ci sono dei fascisti nella destra sì ma non vi sembra che la vostra narrazione come dire non venga compresa proprio diciamo ci sono dei fascisti alla destra comunque un'apertura forte diciamo ora l'importante non danno il ruolo di governo mi pare ma ci sono per tutto direttore lei sa perché non ci sono vie legali e sicure per l'accesso dell'immigrazione che definite regolare perché c'è una pessima legge come la bossi fini che dice che io se voglio dare lavoro a qualcuno che viene da fuori un datore di lavoro lo deve chiamare in senegal senza conoscerle offrirgli un posto di lavoro questo è l'unico modo con cui la destra ha disegnato il modo per venire regolarmente in italia c'è una grande ipocrisia perché la destra se la prende sempre con i migranti irregolari e mai con chi l'impiega irregolarmente nei campi e nelle aziende è molto facile così è molto facile così servire guardate che quello è su maoro guardi che quello è su maoro e la famiglia è su maoro lasci stare le questioni io le pongo un tema di politiche da vent'anni questo paese ha deciso di non diciamo avere una politica di gestione del fenomeno migratorio e c'è lo stampino della destra su quelle politiche si ricorda anche i decreti sicurezza allora io credo che in questo modo non sia serio tra l'altro quando mi son battuta in europa per cambiare il regolamento di dublino che ha bloccato centinaia di migliaia di richiedenti asilo in italia perché il primo paese dove mettono piede io per due anni e 22 riunioni non ho mai visto la presenza della lega né della destra che oggi rappresenta diritti civili a rischio o no e quali dal suo punto di vista i diritti civili purtroppo sono diciamo diritti sociali e civili sono inscendibili perché le persone discriminate per quello che sono sono persone che lavorano che pagano le tasse che fanno in chi discrimina sono discrimi chi è che rischia di essere discriminato in italia chi lo è allora anzitutto c'è un problema quali sono le colpe del governo eventualmente e beh che non abbiamo ancora una legge contro l'odio omo bilesbo transfobico contro il sessismo e contro la discriminazione di chi ha delle disabilità serve una legge come la legge di leggi ma guardi è però guardi che siamo pieni di legge mi scusi ma la legge mancino come sa unisce con delle aggravanti specifiche chi discrimina ad esempio per diciamo ragioni etniche ma non ma non chi viene discriminato per orientamento sessuale per il fatto del proprio genere o per il fatto di avere una disabilità e perché la destra si è opposta e affossato con quell'orrido applauso una legge di civiltà che sarebbe il minimo sindacale in tutto il resto d'europa e un'altra è quella sulla io sullo you soli perché arrivi al punto poi sentiamo salusti c'è un milione di ragazze e ragazzi nati e cresciuti in questo paese a cui ancora questo paese non riconosce che è casa loro ma mi spiega come si fa a pensare che la società più sicura è quella che nega diritti e riconoscimento io penso che la società più sicura sia quella che non discrimina nessuno e non lascia un centimetro alla però capisce lei lei sa che l'italia il paese europeo che concede più cittadinanza agli stranieri il paese europeo con il maggior numero di cittadinanza concesse ma perché dice queste cose che noi non consentiamo lei sa di di cosa stiamo parlando che poi ci siano degli fenomeni xenofobi razzisti ci sono in tutte purtroppo ci sono in tutti i mondi vanno combattuti con l'istruzione con la polizia mi trova dalla sua parte al cento per cento ma dire che questo è un paese che non concede i diritti e dire una roba che non ha non lo so dove sono a rischio alcuni diritti e in che mi perdoni vado nello specifico anche misura ne è responsabile il leader del centrodestra qual è la colpa di giorgia meloni in questo clima di mettere a rischio i diritti diciamo il suo partito si è sempre battuto contro queste misure e io ho qualche preoccupazione anche nel fatto di avere una ministra che alla domanda se l'aborto sia un diritto in italia risponde purtroppo sì io risponderei purtroppo lei è ministra perché noi abbiamo una legge 194 che non è ancora pienamente attuata e bisognerebbe garantire personale medico non obiettore in tutte le strutture salusti ci risiamo vedo che non ma anche anche il risultato elettorale del 25 settembre e quello di ieri non è servito a nulla perché sennò gli italiani vi avrebbero creduto giorgia meloni dice un'altra cosa dice una ogni donna che lo che che io lo stato l'ente pubblico riesce ad aiutare a non abortire perché lei in realtà non voleva abortire per scelta voleva abortire per necessità è una vittoria di tutti lei è d'accordo che se aiutiamo una donna che non vorrebbe abortire a non abortire una vittoria di tutti o no la legge è stata scritta prevedendo quella parte a me impressiona che una donna premier non si occupi invece del diritto negato all'interruzione volontaria di gravidanza a tutte quelle donne che si vedono la porta sbarrata proprio perché in molte strutture c'è addirittura ma quello è un problema dei medici se ne prenda coi medici che non ci sono medici obiettori però non ci sono la sufficienza di medici non obiettori è un problema politico ma lei non può obbligare un medico non può obbligare no lei non può obbligare per le stesse libertà che lei rivendica lei non può obbligare un medico a fare un aborto se avanza un'obiezione di coscienza non può obbligare ci sono regioni ci sono regioni che si sono adoperate per garantire la presenza di medici non obiettori nelle strutture dove si può accedere alle interruzioni gravidanza sto dicendo di fare questo perché è meglio lei di bonaccino una legge sarà rispettata da tutte le regioni a me non risulta che lombardia che è governata dal centrodestra da vent'anni le donne che vogliono abortire non possono abortire non mi risulta c'è il caso delle marche in cui diciamo ci sono delle difficoltà pratiche abbiamo fatto più volte questo dibattito non è dal punto di vista diciamo formale ma da quello sostanziale che si incontrebbero problemi nella regione lazio zingaretti aveva fatto un bando proprio per non obiettori poi c'erano state anche delle critiche al punto di vista giuridico erano passate confermate da rocca a questo punto perché è meglio lei di bonaccini guardi non è una gara di meglio siamo diversi abbiamo una linea politica diversa e abbiamo mezzo qual è la linea politica diversa diceva all'inizio san lusti lei mi dica se sta con calenda o coi cinque stelle guardi sulle alleanze invece penso che tutti oggi ci stiamo dicendo la stessa cosa il pd deve prima capire chi è e chi vuole rappresentare quello che proponiamo noi è di costruire un pd che si batta ma se non lo sa lei direttore mi faccia finire diciamo la domanda è nota si interessa la risposta serve per stabilire una linea quella è la linea che propongo io e che propone chi sta con me è una linea di contrasto serrato alla precarietà di contrasto ogni forma di diseguaglianza che vuol dire più sanità pubblica più scuola pubblica vuol dire contrasto all'autonomia differenziata di calderoli che vuole spaccare di più il paese e occupiamoci anche dell'emergenza climatica e di come fare una quando l'ha detto a calenda calenda che le ha detto pari prima è interessante perché lei diceva sono divisi è vero però io le faccio un esempio sul salario minimo tutte le opposizioni hanno presentato proposte in parlamento facciamo insieme questa battaglia in parlamento e nel paese per dire che sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro perché a sfruttamento salusti un flash no ma voi oggi il suo partito oggi ha approvato a parlamento europeo la risoluzione che mette fuori fuori legge le macchine a combustibile tradizionale dal 2034 mi sembra cioè da domani lei non pensa che questo sarà un grave problema per l'occupazione per l'industria italiana per l'economia e quindi per le famiglie per chiunque perderà il lavoro penso che sia un fenomeno da una transizione una conversione da gestire con risorse investimenti nuove competenze per riprofessionalizzare lavoratrici e lavoratori che oggi sono spaventati da questi cambiamenti ma se non li governiamo non è un gioco a somma zero la scienza ci sta già dicendo che se noi non recuperiamo in fretta riducendo le emissioni clima alteranti noi stiamo rendendo questo pianeta inabitabile per le prossime generazioni e gli effetti già pesano oggi sull'economia e anche sull'agricoltura così come con gli eventi climatici estremi che producono danni ingenti uccidendo persone oppure devastando le infrastrutture ellis klein alessandro saluti grazie per essere stati con noi buon lavoro in bocca al lupo